Non è n'esistirà Il dolore grandissimo Che significa pensare una musica per un luogo? Significa utilizzare, o cercare di utilizzare al massimo, gli aspetti acustici che quel luogo ci può fornire. Solo del lento. Un luogo è un luogo pensato perché la voce sia udibile e udibile da lontano. È un luogo pensato in cui il canto per eccellenza era il canto gregoriano, cioè un canto fatto di punti che beneficiava della risonanza. E secondo te due, sia un luogo negativo che le troggla, nel cielo di chi d nome, conosima� worstattica nilata perchè la voce sia udibile da lontano che il srotessa OCI R imagined És una lontana nivellare nonostante inneri di residenza a laddano e lavare lontano I dag, attraverso i cuore della risottomano lontano I dag. Mettere gli ascoltatori in condizione di poter visitare questo Duomo diversamente dallo stato abituale, quello in cui ti porta la liturgia, col suono che viene dal centro, dall'altare, ma di poter sperimentare come corre la voce in questo luogo. E così i cantori si sposteranno con lingue diverse, cantando il Pianto della Madonna, cantando lo Stabat Mater, cantando vari momenti in cui il dolore del singolo si fa dolore collettivo, condiviso e quindi superabile. Lo canteranno nell'abside, lo canteranno dall'alto dell'organo, facendo piovere il suono sulla testa dei fedeli, lo canteranno da una cappella laterale, da una colonna, lo canteranno percorrendo la lavata centrale, opponendosi ai quattro angoli dello spazio. Gli armonici rimbalzano e danno ogni volta una relazione diversa con la pietra e con l'architettura. Questo crea colori diversi e stati diversi di presenza. Per le persone sedute al centro sarà l'esperienza in cui il suono gira intorno, non sempre del modo in cui si aspettano. Usando queste diverse lingue o dialetti ho potuto stimolare il Duomo, se posso dire, il luogo, l'acustica dell'uomo con materiali sonori diversi, cercando di creare un'occasione per una vera esperienza acustica e un'esperienza emotiva attraverso le conseguenze del suono.